Ecco perché ci stanno nei file, perché la gente prende soltanto il tassi per muoversi a Roma, perché l'autobus non funziona, perché la metropolitana un giorno sì, un giorno no, si ferma, perché il trenino del Fiumicico sa che ha i 10. La sera ci scende a termine, sa che la metropolitana è chiusa, sa che tutte quelle persone della metropolitana che cosa fanno? Vengono a prendere il tassi. E tu rilasci 1.500 tassi, per quale motivo? Ma non risolvi il problema. Al di là che non lo risolvi, per quale motivo? Possiamo mettere pure 2.000, 3.000 tassi, non risolvi, mettiamoli, tanto non risolvi il problema. Perché vi dovete domandare, perché ci stanno quei file? Perché il servizio tassi a Roma è l'unico servizio pubblico che funziona, ecco perché ci stanno i file, perché la gente prende soltanto il tassi per muoversi a Roma, perché l'autobus non funzionano, perché la metropolitana un giorno sì, un giorno no, si ferma, perché il trenino del Fiumicico sa che ha i 10. Non mi puoi fare queste domande, non mi puoi dire che ci sono file chilometriche, mi prendi per i fondelli, mi mandi le file chilometriche, chilometriche, si vieni a arrivare al policlinico, ma che non stai a Dio, a me stai a p***a, a far farlo le... Sai a che ora chiude la metropolitana? E allora se tu hai i 9 e mezzo vai a... File chilometriche, a me faccio a p***a, ci saranno 50 metri da fila e t'hanno ragione, ma che mi dici file chilometriche non c'è stato? La sera ci scende a termine, sai che la metropolitana è chiusa, sai che la metropolitana è chiusa, sai che tutte quelle persone della metropolitana che cosa fanno? Vengono a prendere il cassino, sei un'ipocrita, sei un'ipocrita, sei un'ipocrita, stai dicendo una marea di ipocrisia, non sei mai montato fuori, stai dicendo una marea di ipocrisia, bugiardo, sei un bugiardo che non conosci il seriposo, come fai a venire a parlare con noi? Sai quant'era la velocità commerciale a Roma? Ehi che viene a te rivista noi qua a te, No, dimmi oltre, che mi sei venuto a provocare, dimmi oltre, hai capito? Sono 12 chilometri. Noi siamo pronti a qualsiasi forma di risoluzione per avere la possibilità di poter lavorare con tranquillità, con serietà e tutto. Però se non c'è il discorso che mancano le altre sigle sindacali, è una spaccatura creata anche dal governo e dal comune di Roma. Diciamocelo queste cose, diciamocelo queste cose, perché purtroppo i mesi hanno fatto delle riunioni carbonare a questo punto, penso. Io a me vergognati, non ho appelli sulla lingua, io quello che devo dire lo dico, siamo stanchi, qui ci sono tassisti, siamo pochi, sì, però siamo quelli veri, siamo quelli veri, quelli che stanno lavorando, lavorassero per non far mancare, se intanto si è massacro, domani o uguali sarà sui giornali, mancavano i tassisti, tanto è sempre così.